La Reier cresce e ritrova Josh Owens, quarta vittoria di fila tra campionato e coppa per i veneziani, difesa inossidabile contro un'Avanoli che delude. Alla fine il tabellone parla chiaro, 73 a 51 per gli oro Granata. Recalcati, che ha dovuto rinunciare a Peric alla vigilia messo K.O. dalla febbre, ha ritrovato Owens, 18 punti e 9 rimbalzi. Con lui Ress e Jackson, che partiti dalla panchina hanno girato la partita. Da segnalare la vena realizzativa di Tonut, 12 punti, 4 su 4 dall'arco. Cremona, non pervenuta in attacco, è stata nel match solo per 5 minuti. Poi la Reier, che sembra aver ritrovato gli automatismi della passata stagione, ha preso le redini della partita. Gli ospiti si sono avvicinati meno 9 prima dell'intervallo, ma è stato solo un fuoco di paglia. Alla fine c'è gloria anche per l'esordio stagionale di Simeoni e Criconia. Credo che abbiamo disputato una partita molto consistente, con una difesa importante per 36-37 minuti, cresciuta e che non ha mai concesso niente di facile, tranne forse i primi 5 minuti del primo quarto. Questa è stata una chiave importante, direi decisiva, e è una cosa che nelle ultime due settimane ci ha dato grande solidità. È una base da cui ripartire e anche stasera, devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi, si sono sacrificati tutti anche quando non abbiamo fatto canestro e questa è una cosa che ci servirà anche e soprattutto per il futuro.